Sadhguru, ho una domanda molto difficile. Per me è una domanda molto difficile. Generalmente il potere corrompe tutti, incluso me. Ma ora sono in un percorso spirituale, molto speciale, perché sono un tuo devoto. Voglio evitare che il potere prenda sopravvento su di me. Mi renda corrotto. Non voglio essere schiavo di quel potere, qualunque potere io abbia. Il potere sta completamente corrompendo il mondo intero, ma non voglio essere intrappolato in questa follia. Puoi consigliarmi, Sadhguru? Namaskaram, Sadhguru. Il potere non corrompe, chiunque l'abbia detto. Le persone sono corrotte. Quando ottengono il potere, diventa alquanto visibile. Quando sono da qualche parte, il microscopio non è su di loro, quindi non lo vedi. Quando arrivano a delle posizioni di potere, le loro corruzioni trovano volume. Una dimensione di espressione diversa. Ma qualcuno che non è corrotto non diventerà corrotto a causa di questo o quello. Prima di tutto, capiamo cos'è la corruzione. Nel momento, la definizione fondamentale di corruzione, ok? Più tardi verrò le definizioni politiche. La definizione fondamentale della corruzione è semplicemente questa. Se c'è qualcosa che si chiama me e qualcosa che si chiama te, la corruzione è iniziata. Perché ciò che sono io è più importante di ciò che sei tu. Non è così? Una volta che arriva il me, ciò che è mio e ciò che non è mio arriverà. Una volta che questo è mio e questo non è mio arriva, la corruzione diventa più profonda. Se diventi molto attaccato a ciò che è mio e a ciò che non è mio, allora è ben consolidata. Così va avanti. Quindi, tutto quello che ho cercato di fare in tutti questi anni è di rendere la corruzione galattica. Il problema è che sta succedendo su piccola scala. Quindi, tutto quello che sto dicendo è rendiamo la corruzione cosmica. Perché la natura di chi sei è tale che devi identificarti con qualcosa. Se ti identifichi solo con questo corpo, un livello di corruzione. Poi ti sposerai e ti identificherai con due corpi. Un altro tipo di corruzione, corruzione moltiplicata. C'è c'è una cosa che girava. Non più. Perché le cose sono cambiate ora in questa generazione. Nella generazione precedente, quando noi eravamo a scuola, all'università, c'era una cosa che girava nelle università. È così. Quando sei uno studente, tutti sono comunisti. Nel momento in cui trovi lavoro, diventi un socialista. Sai? Nel momento in cui ti sposi, diventi un capitalista. Nel momento in cui hai figli, sei diventato corrotto. perché quando la tua identificazione è con questo corpo, sei già corrotto, ma è talmente su piccola scala che nessuno se ne accorge. Oppure tutti lo accettano. Oh, è naturale. Ma quando diventano due, la corruzione diventa un po' più grande. La gente può vedere la cospirazione. la famiglia è la prima forma di corruzione. Sì. Non ne parlo contro, te lo dico solamente. È così. Perché improvvisamente ciò che è nostro e ciò che non è nostro diventa importante. Poi viene la comunità, poi viene la nazione, poi viene la razza, poi viene la religione. Così. Diversi livelli di corruzione. Essenzialmente corruzione significa qualsiasi pensiero di benessere o atto di benessere che l'essere umano è in grado di compiere sta escludendo qualcuno, non è vero? Sì o no? Sì. Al momento c'è qualcosa qui. voglio dare un po' di più a questa persona, un po' di meno a questa persona. Questa è corruzione, non è vero? Più sei fortemente identificato con ciò che è me e ciò che è mio, più sei diventato corrotto. L'unica cosa che può essere la questione è se si tratta di forme socialmente accettate di corruzione oppure no. se succede qualcosa alla tua famiglia, ai tuoi figli, arriveranno lacrime assecchiate. Mentre dei bambini vanno in giro per le strade senza vestiti o cibo nella pancia e non ti è mai venuta nessuna lacrima, non ti è venuto nessun pensiero, sei corrotto. Essenzialmente sei corrotto. se facciamo di te il primo ministro, la tua corruzione verrà comunicata nei media. Sì. Al momento la tua corruzione non merita di essere comunicata perché non ha così tante conseguenze per le altre persone. Ma sto dicendo se verranno lacrime assecchiate, se la vita di tuo figlio è in pericolo, mentre tantissimi di loro stanno per strada e non un solo momento di niente, questo significa che sei corrotto a oltranza. Sì o no? Non ti piace? Va bene. La corruzione non è sempre una cosa consapevole. La maggior parte della corruzione sul pianeta è perché sei identificato con qualcosa di limitato. L'identità limitata è corruzione. Nel momento in cui sei identificato con ciò che è me e ciò che è mio, sei corrotto. Essenzialmente corrotto. Se diventi il primo ministro sarà visibile a tutti. Ogni singolo atto che compi ha un impatto enorme su milioni di persone. Quindi viene visto. Al momento tra la tua mano destra e la sinistra ne hai reso una superiore o una inferiore in questo stato se diventi primo ministro. non è vero? Questa è la mano superiore questa è la mano inferiore sai quindi in questo stato come puoi non essere corrotto? Sei corrotto con il potere diventa sempre più visibile. Ecco perché puntiamo a coloro che sono potenti e alle persone che sono in posizioni di responsabilità e di potere perché se almeno rendi la loro identità un po' più ampia vedi se associ la tua identità a te stesso deruberai la persona accanto a te se associ la tua identità alla tua comunità farai delle cose positive per la tua comunità alle spese di un'altra comunità se sei identificato con la nazione farai delle cose positive per la tua nazione alle spese di un'altra nazione sì o no? Questo non viene percepito come corruzione eppure è corruzione il mondo intero è pieno di corruzione uno contro l'altro tutto il tempo non è vero ciò che è mio dovrebbe andare bene ciò che è tuo dovrebbe morire questa è corruzione non è vero? Quindi non è che il potere corrompa non so chi l'abbia detto le persone sono corrotte con il potere la corruzione trova espressione con il potere ogni cosa trova espressione se sei intelligente la tua intelligenza troverà espressione se sei amorevole se diventi potente il tuo amore troverà espressione se sei corrotto la tua corruzione troverà espressione senza cambiare la qualità di base di chi sei vuoi sistemare l'esterno? no c'è un albero che produce fiori c'è un albero che produce spine se potenzi entrambi uno produrrà più fiori l'altro produrrà più spine quindi sistemiamo per bene il nostro pedigree per prima cosa se sistemi il tuo pedigree per prima cosa da dove provieni? provieni dalla tua identità biologica o vuoi vivere qui con la tua identità divina? questa è la scelta che hai se sei identificato con la biologia di chi sei sarai comunque corrotto come puoi non esserlo? perché la biologia è un processo limitato se sei identificato con questo tutto ciò che è all'esterno sarà all'esterno se sei identificato con il divino quando dici sono un devoto ecco cosa significa che ho dissolto tutte le mie identità limitate e la mia identità è con una cosa sola se è così dovresti diventare il primo ministro del mondo e sarà fantastico il mondo andrà alla grande non il benessere di uno alle spese del benessere di un altro benessere come può essere per ogni vita su questo pianeta è allora che non sei corrotto non è vero? non è vero? non è vero? non è vero? Grazie.